Giornata di formazione per i titolari di impresa e collaboratori dell'area amministrativa e finanziaria su Basilea 3 e servizio tutoring bancario per le PMI in CDO. Il titolo dell'incontro è il rapporto banca-impresa alla luce degli scenari attuali e di Basilea 3. Lo scopo anche del seminario di oggi è proprio di illustrare come Compagnia delle Opere insieme ai partner che siamo noi, Partefin, Partecipazione e Finanza e il nostro partner nazionale BFS può sostenere le imprese accompagnandole nelle giuste richieste alle banche per l'accesso al credito. E' sempre più importante un rapporto di trasparenza con gli istituti di credito. Quindi per fare questo il primo step è la conoscenza, la conoscenza del mercato del credito, delle condizioni in cui il credito viene erogato, delle condizioni in cui le banche si trovano e l'azienda deve sapere quali sono i fondamentali che le banche richiedono per processare il loro rating. Una grandissima importanza riguarda anche la parte qualitativa di un'azienda, tutte informazioni che le banche normalmente non hanno, vale a dire il management, i progetti futuri, un sistema di budgeting adeguato, i sistemi informativi che utilizza, chi sono i clienti, i fornitori, insomma sapersi presentare nel migliore dei modi dando quelle informazioni che normalmente gli istituti di credito non hanno. Tutto questo noi lo facciamo attraverso degli strumenti convenzionati con gli istituti di credito. Siamo l'unica associazione in Italia che ha un marchio registrato PMI Tuturing che è una sorta di istruttoria condivisa con l'istituto di credito convenzionato.